mi avete rovinato la vita mi avete rovinato la vita dice il famoso dentista che si era messo un finto braccio di silicone per farsi fare il vaccino dentro il braccio di silicone ed ora che è diventato fumoso perché di lui ne hanno parlato tutti dice mi avete rovinato la vita è stato sospeso dall'ordine dei dentisti è stato sospeso pensate che i dentisti i veri dentisti veramente sono odontoiatri io non lo so se costrui un dentista o un odontoiatra la notizia l'ho letta sul potentissimo Corriere della Sera e tale notizia ve la metto come lì nel riassunto di questo video sì forse è un odontoiatra gli odontoiatri guadagnano un sacco di quattrini perché noi umani ne abbiamo 32 di denti poi 4 però vengono tolti perché non c'è più posto perché le nostre macelle si sono rimpicciolite e quindi devono essere tolti 4 denti ne restano 28 ma sono sempre tanti sono sempre tanti 28 se tutto va bene abbiamo 28 denti e c'è sempre un qualche dente che fa i capricci per cui le sale d'attesa degli odontoiatri sono sempre piene 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 e gli odontoiatri ci fanno un sacco di quattrini ora non so come farà questo questo dentista odontoiatra che è stato sospeso dall'ordine degli odontoiatri perché ha fatto quello che ha fatto ma pensate voi che idea che gli è venuta si è presentato si è presentato con un braccio di silicone e la dottoressa che doveva fargli il vaccino se ne accorta che non era un braccio vero capito allora si è allarmata si è allarmata e l'hanno saputo tu tutti l'hanno saputo che questo bravo 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 odontoiatra voleva farsi fare il vaccino dentro un braccio finto capito ma che stranezze ma che stranezze ma potevi avere un'idea migliore e non potevi avere un'idea migliore per esempio io so che che vendono i green pass falsi vendono i green pass falsi lo sanno tutti che c'è il mercato dei green pass falsi no eh andiamo ti presenti con un braccio di silicone come se i medici che ti fanno la punturina dovessero essere dei cretini e a questo punto a me Serafino Massoni che sono questo qua mi vende a dubitare e a Roma si dice ma chi te l'ha data la laurea chi te l'ha data la laurea e mo hai perso tutti i clienti hai perso hai capito anche se non ti avessero espulso dall'ordine degli odontoiatri e mo hai perso tutti i clienti come fai ad arrivare alla fine del mese io non so se tu c'hai famiglia casomai tu c'avessi famiglia mogli e bambini come fai ad arrivare alla fine del mese come fai ma guarda carissimo carissimo io ti posso dare un consiglio ti posso dare se c'hai ancora un po' di quattrini vai subito in libreria hai capito compra una copia della strip del serpente che ti insegna come si vive in padiacato padiacato hai capito dentista odontoiatra a te dentista odontoiatra e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni che ha fatto tre dosi di Pfizer c'ha il Gimpas super rafforzato ed è qua di fronte a voi non c'è avuto nessun problema io ho capito e sapete perché non c'è avuto nessun problema ma perché io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica hai capito che vi aspetta tutti in libreria come bella strella natalizia ciao dentista odontoiatra a te e a tutti voi tanti cari saluti dalla strip del serpente